Questa mattina la campanella ha suonato per il nuovo anno scolastico in Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta. Ma non sono i primi studenti a tornare in classe, quelli di Bolzano sono già sui banchi da martedì scorso 5 settembre. Domattina sarà la volta dei ragazzi lombardi, li seguiranno a ruota mercoledì 13 in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto. Per i giovani di Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna il rientro è fissato al 14 settembre. Concludono l'inizio dell'anno scolastico l'Emilia Romagna, la Toscana ed il Lazio il 15 settembre. Le prime vacanze, quelle di Natale, in linea di massima saranno in tutte le regioni dal 23 dicembre al 6 gennaio, compresi quelli di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile. In piena autonomia i singoli istituti possono decidere di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali su proposta del collegio dei docenti. Per assicurare la validità dell'anno scolastico resta obbligatorio il limite di 200 giorni di lezioni.